La sentenza risale a un mese fa ed è stata pronunciata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, ma oltre a fare discutere rischia ora di dare il colpo di grazia ad una grossa fetta del commercio, soprattutto in Sicilia, perché proprio con quella sentenza viene sancito il divieto di vendita di frutta e verdura all'aperto. Un'abitudine oltre che una tradizione particolarmente diffusa nell'isola e non soltanto nei mercati storici, già al collasso come quelli della Vuciria, del Capo o di Ballarò a Palermo. Secondo il pronunciamento della Cassazione, i commercianti sorpresi a esporre in strada cassette di frutta, verdura e ortaggi rischiano una condanna penale e vanno incontro ad un'ammenda. Il riferimento è quello alla legge 283 del 1962 che contiene le regole sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Il caso su cui la Cassazione si è espressa nel febbraio scorso riguardava l'ammenda inflitta dal Tribunale di Nola ad un commerciante di Pomigliano d'Arco che però aveva fatto ricorso, un ricorso che la Cassazione ora respinge confermando la validità del divieto legato all'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari. Contro questa sentenza si è già espressa la Col di Retti, secondo cui il divieto finisce col favorire grandi centri commerciali, penalizzando invece i piccoli commercianti, che è poi la stessa preoccupazione manifestata da altre associazioni di categoria e dai comuni. In Sicilia si sta muovendo anche la regione. L'assessore all'agricoltura, Caltabellotta, ha parlato di una follia e ha annunciato per martedì la convocazione di un tavolo al quale prenderà parte anche l'assessore comunale alle attività produttive di Marco. A esporre frutta e verdura sui mercepiedi, infatti, nelle nostre città non sono soltanto i commercianti dei mercati storici ma anche i proprietari di piccoli negozi ed empori. Gli effetti della sentenza andrebbero dunque ad aggiungersi a quelli già denunciati della concorrenza dei grandi centri commerciali e delle grandi catene di supermercati, finendo con il decretare la morte per asfissia di una grossa fetta del commercio al dettaglio.